Nel giorno del compleanno del comandante da Karlsruhe, Vincenzo Italiano, nei giorni in cui la voce di mercato, la principale voce di mercato, Jonathan Iconé, sembra essere praticamente a un passo dalla Fiorentina dopo la sua magnifica prestazione su un palcoscenico importante come la Champions League di mercoledì contro il Wolfsburg dove ha fatto una prestazione da MVP portando il Lille agli ottavi di finale con due assist, nei giorni in cui si avvicina sempre di più la voce di Borja Majoral, nei giorni in cui la Fiorentina e la società stessa, i media bombardano con notizie di calcio mercato da destra e a Manca, i Viola si devono concentrare per la partita di domani contro la Salernitana all'Artemio Franchi, una partita che uno direbbe, sì, vabbè, abbordabilissima sulla carta, giochiamo in casa, veniamo da una serie positiva di vittorie nonostante il passo falso contro l'Empoli, abbiamo giocato bene contro la Sampa, siamo andati in gestione un po' soffrendo naturalmente contro, come sappiamo, contro il Bologna, la Salernitana arriva da due sconfitte contro squadre pesanti, è vero, ma l'ultima vittoria loro era del, se non sbaglio, quella contro il Venezia, dobbiamo fare questo ulteriore passettino in più, abbiamo battuto delle medio-basse recentemente, o delle medie squadre, devo dire come la Sampdoria e il Bologna, che è una sorpresa del campionato, comunque, e bisogna continuare a essere schiacciassassi contro le piccole, abbiamo battuto 3-0 lo Spezia, abbiamo battuto 2-1 il Genoa, abbiamo battuto 3-0 il Cagliari, mi auguro fortemente che sul piano mentale domani la Fiorentina non indugi e applichi lo stesso metodo, lo stessa tipologia di gioco anche contro una Salernitana, che arriva a Firenze sperando appunto di fare un po' la corsara e di rubare punti, questo è l'augurio dei ragazzi, assolutamente dico l'Antono, devo dire che la Fiorentina però deve assolutamente portare a casa i 3 punti, un pareggio non mi accontenterebbe, una sconfitta lasciamo stare, la vittoria darebbe, come dire, alimenterebbe la speranza del sogno europeo della Fiorentina, che poi, come ho detto, mercoledì deve andarsi a gianare la Coppa Italia, faccio anche una parentesi qui, sarebbe bello concentrarsi sulla Coppa Italia, sarebbe un bel trofeo da vincere quest'anno, vista la partenza della Fiorentina di Vincenzo Italiano, mi sarebbe veramente piaciuto puntare su questo trofeo, o comunque portare a casa un trofeo che manca da quando sono nato io, nel 2001 praticamente, ultimamente, tolti ovviamente serie B, eccetera, eccetera, e però, guardando anche il tabellone, se nel caso battessimo il Benevento, siamo dalla parte sfavorevole del tabellone, ci toccherebbero squadre come Napoli, se non sbaglio poi Atalanta e Juventus, se uno va avanti, e quindi la cosa semplicemente diventerebbe molto molto difficile. Quindi, a proposito di formazione, tenterei di catalizzare, di concentrare tutte le forze, e parlo anche appunto di titolari, nella partita contro la Salernitana. Anche perché sul piano tattico questa non sarà una partita assolutamente facile, probabilmente loro useranno il classico metodo delle squadre da bassa classifica, dal rischio retrocessione, del rimanere tutto indietro, non subire gol e ripartire. E, se capita la giornata alla Salernitana, nella quale sono insuperabile in difesa, fanno il muro, un muro impermeabile, che nessuno dei nostri attaccanti riesce a sfondare, e in contropiede ti puniscono, beh, allora lì si mette veramente difficile, e già andare sullo 0-0, secondo me, all'intervallo non è una cosa buona. A parer mio questa partita è da dominare dall'inizio alla fine. Qui vedremo anche come funziona la gestione del gioco d'italiano. Se c'è un passo, che voglio vedere, oltre al risultato della vittoria, naturalmente ai tre punti, un passo in più che voglio vedere fare dalla Fiorentina in italiano, è quella di non, diciamo, farci venire sempre il magone, lo strizzone finale, di essere in controllo della partita fino alla fine, perché sembrava che contro il Bologna in certe fasi si spegnesse il tasto di accensione della nostra squadra. Se ce lo ricordiamo, nelle ultime tre partite c'è sempre stato un momento di down proprio della squadra. Contro l'Empoli, quei famosi 2-3 minuti dall'87esimo in poi, contro la Sampdoria, seppur nonostante una grandissima reazione della squadra, nei primi 10 minuti la Sampa attaccava, contro il Bologna a fine primo tempo e a fine partita. Spero che contro la Serenitana ci sia un continuo, anche se ovviamente nei limiti, un continuo, come dire, che le energie siano spalmate molto bene in modo da consentire un controllo della partita totale sempre, in ogni momento. A proposito della formazione, come dicevo, la Fiorentina dovrà andare in campo, appare il mio, con la formazione più titolare possibile. Poi ovviamente lo deciderà Vincenzo Italiano e il nostro tecnico, lo ripeto, nonostante abbia azzeccato alle formazioni l'ultime volte, ci ha abituato a formazioni campate, cioè non campate in area, non voglio dire questo, ma comunque sempre diverse, molto liquida la formazione della Fiorentina. Il modulo naturalmente è sempre il 4-3-3, non rientra Drungovski, anche qui c'è un discorso di mercato abbastanza, secondo me, evitabile, nel senso io credo che Drago al suo rientro possa tranquillamente far portiere titolare e Terracciano quello di Coppa o di Riserva eventualmente, no? Però comunque la formazione che io schiererei potrebbe essere questa. appunto Terracciano in porta, Viraghi a sinistra, dandogli continuità a lui, nella difesa centrale, ed è questo un po' che mi preoccupa, sempre Quarta e Milenkovic, voi mi direte, ma come ti preoccupa? Io, intanto qui sopra vi lascio il link dello scorso video del post partita contro Bologna, ed è, perché ve lo lascio? Perché ho parlato lì del paradosso della difesa titolare, nel senso che quando rischieriamo la difesa titolare, molto forte sulla carta centrale intendo, Martínez Quarta e Milenkovic, spesso ci sono dei momenti di vuoto, memoria difensiva proprio, di vuoto tattico, dove magari non riescono a coordinarsi bene per il fuorigioco, o poca attenzione nelle marcature, uno sale troppo e l'altro gli va dietro, insomma, quindi anche in questo caso, bellissima sulla carta della difesa titolare, dimostriamo che sappiamo mantenere la porta inviolata con una squadra come la Salernitana. A destra schiererei comunque Odriozola dandogli fiducia, a centrocampo andrei con il solito Torreira, Bonaventura e Duncan, o Malè comunque. Darei 45 minuti a Castro, se se la sente e se ovviamente è in grado, mentre davanti andrei con il solito attacco, Sotil a sinistra per rientrare sul sinistro, Nico a sinistra, a destra scusatemi, per rientrare sul sinistro, e Blaovic naturalmente punta centrale. Perché, come ho detto, schieralo titolare? Perché poi, secondo me, contro il Beneventi in casa, in Coppa Italia, un turno dove magari la Fiorentina non è richiesto tutto questo impegno mentale e fisico, possiamo andare, anche se non è una partita da sottovalutare, assolutamente, possiamo andare a giocarci la on day con un po' di turnover, magari schierando Terzic, Venuti, Igor, Nastasic, Pulgar se si è ripreso, Amrabat, Cocorin, addirittura si parlava di un impiego dal primo minuto, di Cocorin, Cajon e Saponara, quella è la formazione che schiererei contro il Beneventi in Coppa Italia, mentre in Serie A, nella competizione, che dove noi dobbiamo fare molto bene quest'anno, continuerei a spingere a martellare i suoi titolari. Anche perché poi ci sarà la partita di domenica 19, se non sbaglio, contro il Sassuolo in casa, e lì non è una partita assolutamente facile, e c'è da dimostrare di saper far bene e di continuare con queste vittorie nostre. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nel post partita, probabilmente farò il vlog, quindi, essendo allo stadio, quindi aspettatevelo un pochino, magari più in tarda serata. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, che sta andando molto bene, grazie per le visualizzazioni, come sempre, per le condivisioni, eccetera, eccetera. Commentate facendomi sapere cosa ne pensate di questa partita. Io vi mando un saluto e sempre, sempre, forze viola. Ciao ragazzi!